Quindi oggi inauguriamo il primo di un ciclo di tre seminari che terrò per introdurvi alla teoria della conoscenza all'intelligenza artificiale. In realtà questo primo seminario è introduttivo a questi argomenti che mi sono parsi abbastanza attraenti per voi che dovete portare avanti un discorso sul pensiero critico, l'officina del pensiero critico, quindi l'intelligenza probabilmente è un concetto che ha molto a che fare con questo tema. Poi noi potremo vedere insieme a questo concetto altri concetti correlati come il concetto di conoscenza, parlare un po' del metodo scientifico. Quindi ovviamente introdurvi a cosa significa oggi, nella nostra epoca, parlare appunto di pensiero critico. In realtà in questo primo seminario, vi stavo dicendo, non si parlerà moltissimo di intelligenza artificiale, in quanto questo primo seminario volevo che fosse soprattutto introduttivo. Si parlerà di più, diciamo, di intelligenza naturale, biologica, diciamo umana. È il nostro punto di partenza ovviamente, prima di poter parlare di qualunque cosa di artificiale. E partiamo con una domanda, ovviamente, la domanda più naturale, che cos'è l'intelligenza. Cominciamo subito ad andare al nocciolo della questione. Ci sono proposte da parte vostra di risposta a questa domanda? Secondo voi cos'è l'intelligenza? C'è qualcuno che vuole? La capacità di ragionare. La capacità di apprendere. Altre? Altre proposte? Un attimino. La capacità di adattarsi. Di adattarsi alle situazioni, vuol dire. Alle varie situazioni. E poi qualcun'altro aveva detto qui? La capacità di interiorizzare. La capacità di interiorizzare. Quindi la capacità di ragionare, la capacità di apprendere, di adattarsi alle situazioni, di interiorizzare. Vedete, tutti quanti avete dato delle definizioni che in qualche modo ripercorrono la storia di questo concetto nel tempo, diciamo nella visione di tanti pensatori, di tante epoche, ma in particolare nella nostra epoca contemporanea, cioè ancora oggi, non c'è un'unanimità di vedute su questa definizione. Questa è la prima cosa che può sembrare sorprendente. Intelligenza è una parola che usiamo tutti i giorni, nel nostro lessico è proprio una delle parole più utilizzate. Qualcuno vi avrà detto che siete intelligenti, per esempio. Ma in realtà non c'è una vera e propria definizione di intelligenza valida per tutti. La maggior parte della gente oggi pensa che intelligenza significhi capacità di risolvere problemi. Questa è proprio, diciamo, la definizione che anche inconsciamente viene data per buona. Sicuramente da questo punto di vista si pensa che una persona intelligente sia una persona che ha buone capacità di affrontare un problema magari nuovo, cioè che non ha mai visto prima. Quindi è intelligente perché si sa rapportare con qualche problema nuovo. Questo modo di vedere, vedete, è tipico di una società utilitaristica, cioè di una società che quindi soprattutto pensa all'utilità, a risolvere appunto problemi, dove quindi è considerato bravo, che è in grado di sapersi adattare, vedete, l'adattamento c'entra molto alle situazioni di difficoltà. E sicuramente questa definizione di intelligenza va benissimo per gli ingegneri, l'ambito da cui io derivo, quindi, diciamo, se qualcuno di voi avrà a che fare con ingegneria, sicuramente si troverà davanti questa accezione del termine. Siete dei bravi ingegneri, siete degli ingegneri intelligenti, se sapete risolvere problemi. Eppure, vedete, questa definizione non rispecchia, neanche lontanamente proprio, tutti i significati che questo termine ha rivestito per la cultura umana in ambito storico in questi ultimi 5.000 anni. Parlo appunto degli anni che consideriamo appartenere alla storia. Dal 3.000 a.C. fino ad oggi sono passati 5.000 anni. Parliamo di storia nell'ambito di questi 5.000 anni. C'è gente che ha scritto, che ha scritto libri, che ha parlato di intelligenza. Ebbene, non ne hanno parlato sicuramente solo così, come la capacità di risolvere problemi. Assolutamente. La parola, proprio il termine, intelligenza deriva dal latino, deriva da intelligere, capire, è un verbo composto, composto dall'avverbio intus, quindi diciamo dentro, e dal verbo leggere, appunto leggere, leggere dentro, nel senso di raccogliere delle idee, delle informazioni su qualcosa e interiorizzarle. Vedete, anche chi ha detto che si tratta di interiorizzare qualcosa già in qualche modo azzeccato. Quindi l'intelligenza è la capacità, secondo questa definizione, di comprendere la realtà, non in maniera superficiale, ma andando, diciamo, oltre gli aspetti apparenti, cercando quindi di avere una conoscenza approfondita, diciamo così. In questo caso noi siamo già in grado di dire una cosa importante, no? Cioè che l'intelligenza è una capacità umana, quindi si tratta di una capacità, che si lega all'acquisizione di qualcosa, di un altro concetto di fondamentale importanza, la conoscenza. Quindi l'intelligenza è capacità di acquisire conoscenza. Quindi dobbiamo fare i conti con le parole, insomma, se vogliamo invastire un discorso serio sull'intelligenza. Quindi dobbiamo porci un'altra domanda, che io giro subito a voi. Cos'è la conoscenza con cui avete a che fare da quando avete iniziato a studiare, ma anche da prima? Cos'è la conoscenza secondo voi? Apprendere, sì, ma apprendere cosa? Allora a questo punto, no? Tutto. La verità. La verità. Questa è un'altra cosa da tenere a mente. La verità. Anche la curiosità. Non è curioso, magari conosce qualcosa, si spinge in qualche cosa. La conoscenza è legata certamente alla curiosità. Ma io vorrei che facesse uno sforzo per dirmi secondo voi cos'è proprio la conoscenza. Pensatela proprio come un oggetto. La conoscenza di fatti già accaduti, cose già accadute. Quindi la conoscenza si riferisce ad eventi accaduti. Siamo insieme ad eventi, di nozioni, e col tempo, con le esperienze, anche se si assimilano, si capisce con le conoscenze. Nozioni. Questo è un'accenna a qualcosa di importante. La conoscenza ha a che fare con le nozioni. Secondo voi cosa sono le nozioni? Informazioni? Dati. Qualcosa di cui avete avuto contezza. ma legate a quell'altra definizione, quella di verità, che qualcuno ha sollevato, no? Nel senso che voi volete sapere ciò che è vero. Non vi interessa sapere ciò che non è vero. Cioè che è irreale, che non appartiene alla realtà. Insomma, vedete, anche con la conoscenza, no? Avete un po' di problemi a dare una definizione molto solida. Infatti, vedete, ci girate un po' intorno. Potreste chiederla a un informatico che cos'è la conoscenza, perché un informatico si occupa proprio di questo, e un informatico vi dirà che si tratta di acquisire informazioni circa una qualche realtà. Cioè, noi acquisiamo conoscenza quando, diciamo, preleviamo informazioni dalla realtà. Poi però, un informatico, se è un informatico serio, diciamo, comincerà a dirvi che la conoscenza non include solo dei fatti del mondo reale, no? Per fatti, noi intendiamo qualcosa di cui si può dire che è vero, che è falso con certezza. Per esempio, misurare la temperatura dell'aria. E adesso prendo un termometro, misuro la temperatura dell'aria e vedo 12 gradi. Questo è un fatto. Perché il termometro mi ha dato una misurazione di una quantità fisica. Vedete, quindi, per l'informatico, per l'ingegnere, ma in generale, diciamo, per molta parte della cultura contemporanea, conta molto misurare. La conoscenza ha a che fare con qualcosa che si misura. L'informatico vi dirà però che, a parte questi fatti, è anche conoscenza, diciamo, tutto ciò che è rappresentato da affermazioni che noi facciamo sulla realtà e che possono riguardare anche un insieme di eventi, una generalità di eventi. Cioè, affermazioni di tipo generale, che non riguardano necessariamente un singolo fatto. Per esempio, se io dico, Socrate è un uomo, no? Questo è un fatto. Perché io lo verifico, diciamo, visivamente, lo verifico, diciamo, sensorialmente. Ma se invece io, diciamo, dicessi, tutti gli uomini sono mortali. Un'affermazione che avrete, diciamo, letto su qualche libro di filosofia tante volte. Tutti gli uomini sono mortali è un'affermazione che non si riferisce a un singolo uomo, a un singolo evento. Si riferisce a una categoria, a un'intera categoria di eventi. Parla di tutti gli uomini, no? Allora, anche qui abbiamo comunque una affermazione, così come l'affermazione Socrate è un uomo, ma su cui, diciamo, abbiamo più difficoltà a dire se è vera o se è falsa. Socrate è un uomo è un fatto, qualcosa che possiamo verificare puntualmente. Tutti gli uomini sono mortali, dovremmo verificarlo su tutti gli uomini che esistono, che sono esistiti, che esisteranno. Vedete, le affermazioni generali, come quella che ho appena fatto, segnatevela in qualche modo, è un buon esempio, tutti gli uomini sono mortali, sono utili. Sono utili perché, diciamo, possono essere combinate tra loro e fare in modo che da una conoscenza iniziale si sviluppi altra conoscenza. Per esempio, diciamo, io posso combinare l'affermazione tutti gli uomini sono mortali con l'affermazione Socrate è un uomo e andare a dire che Socrate è mortale. Immaginiamo di non averlo mai visto morire, allora io, semplicemente combinando due affermazioni, sto facendo una previsione sul futuro, no? Sto dicendo Socrate poi alla fine morirà. Esattamente, sto, diciamo, introducendo quell'altra definizione che qualcuno dava di conoscenza, ragionamento, no? Cerchiamo di capire cosa vuol dire ragionamento. Innanzitutto, questo che abbiamo appena introdotto, cioè il combinare tra loro affermazioni, affermazioni di tipo conoscitivo, fu introdotto da Aristotele e si chiama Sillogismo, lo sapete, lo sapete bene, almeno è una forma, è una figura tra le tante figure del Sillogismo. Diciamo subito che si tratta semplicemente di uno schema mentale. Non ha niente né di magico né di assolutamente vero, è solo un modo di concepire la realtà, di organizzare la realtà. Noi partiamo da premesse, cioè da affermazioni che sono ritenute vere, per qualche motivo, su questo ci torneremo, su questo concetto della verità delle premesse, poi le combiniamo e riteniamo che quello che viene fuori, ragionando, sia vero se le premesse sono vere. Perché siamo sicuri che quello che viene fuori è vero? Perché siamo sicuri che i Sillogismi funzionano. Abbiamo fiducia nel funzionamento dei Sillogismi. Questo modo di ragionare in realtà ha un nome più tecnico dal punto di vista filosofico, si chiama dialettica. È alla base del dialogo, cioè del procedere da cause ad effetti, da premesse a conclusioni, esattamente quello che voi fate e farete sempre, studiando, in qualunque ambito. Cioè voi farete dei ragionamenti in questa maniera, partendo da premesse e sviluppando conclusioni, che potranno a loro volta diventare premesse di altri discorsi. E andrete avanti così a sviluppare conoscenze. La dialettica era conosciuta molto bene dai greci, dai greci antichi, dai greci dell'età di Socrate che abbiamo nominato prima, ma anche prima la dialettica fu esaltata, diciamo, da filosofi importanti come Platone, come Aristotele. Ma prima ancora di questi anche i sofisti, per esempio, introducevano moltissimi ragionamento dialettico, i sofisti, filosofi di cui avrete sentito parlare, Protagora, Gorgia, no? Loro la chiamavano Dianoia. Dianoia, anche qui è un nome composto, sta per una combinazione tra dia e nus, cioè pensare attraverso. Loro la identificarono proprio col pensiero razionale, cioè la utilizzavano come proprio sinonimo di ragionare, sì, diciamo così, è il modo di sviluppare conoscenza che ancora noi oggi utilizziamo della scienza, della matematica, della geometria, pensate alla geometria euclidea. La geometria euclidea è quella che studiate proprio a scuola, fin, diciamo, dalle scuole medie, parte da un insieme di cinque semplici azioni, cinque proposizioni che noi consideriamo vere per ipotesi, che riguardano in questo caso punti e rette, enti geometrici, e noi da questi cinque semplici azioni possiamo provare qualunque teorema che riguardi la geometria. Per esempio possiamo provare il teorema di Pitagora, partendo soltanto da questi cinque azioni, per via discorsiva, cioè ragionando logicamente come nell'esempio che vi ho fatto prima. Ora, i greci erano molto attirati dalla Dianoia, da questo modo di collegare tra loro proposizioni logiche. Perché? Perché ebbe così grande successo questo modo di ragionare? Ve l'ho anticipato prima, perché consente di fare previsioni sulla realtà, come nel fatto, diciamo, nel discorso che prima vi ho introdotto riguardante Socrate, per cui andiamo a prevedere che Socrate è mortale senza averlo visto morire. Però quella magari vi può sembrare una situazione abbastanza banale, no? Vi propongo un altro esempio un po' più strutturato. Immaginate di essere dei greci, dei greci che stanno sulla riva del mare, all'epoca quando si stava sulla riva del mare era facile che arrivasse una nave, una nave a vela, e bisognava stare attenti a chi arrivava, perché a secondo di chi arrivava bisognava stabilire se ci si dovesse difendere o meno. Immaginiamo di avere delle conoscenze sulle navi che arrivano dal mare. Quindi, per esempio, immaginate, segnatevelo proprio come esempio, di avere una premessa, una sioma, chiamiamolo così, nel senso di una proposizione che riteniamo vera per ipotesi, immaginiamo di sapere, per certo, che le navi pirata hanno sempre la vela nera, mentre le navi greche hanno sempre la vela rossa. E quelle fenice possono avere la vela di qualunque colore. Immaginate che qualcuno vi abbia fornito questa conoscenza. Questa, chiamiamola, premessa numero uno al nostro discorso. Ora immaginate di avere anche una seconda premessa, sempre un'informazione che vi ha fornito qualcuno, di sapere che le navi pirata e le navi greche possono navigare sia lungo la costa, sia a largo. Lungo la costa significa seguendo la costa, no? Oppure a largo. Mentre le navi fenice navigano sempre a largo. Qualcuno vi ha detto anche questa seconda cosa, quindi seconda premessa. Bene. Ora immaginate di essere un greco sulla riva, sulla spiaggia, e di avvistare una nave che naviga lungo la costa con la vela nera. Siete in grado di combinare questa vostra nuova informazione con le due premesse che vi ho appena dato e di ricavare una conoscenza nuova? Qualcuno sulla base di queste informazioni che vi ho dato saprebbe fare delle previsioni sulla nave, sul tipo di nave che sta navigando lungo la costa? Sapendo che comunque una nave pirata non naviga vicino alla costa, allora traerei una conclusione e direi che comunque si dovrebbe difendere. Cioè tu immagineresti che la nave è una nave, diresti che la nave è una nave pirata. Qualcun altro? Qual è il ragionamento che sta dietro questa conclusione che la vostra collega ha fatto? Avendo la vela nera, la nave potrebbe essere... Sì, la nave che abbiamo avvistato sta navigando lungo la costa e ha la vela nera. Quindi avendo la vela nera potrebbe essere una nave pirata che hanno sempre la vela nera o una nave fenicia perché potrebbe avere la vela di qualunque loro. Quindi la prima premessa ci fa limitare a queste due possibilità. Le navi fenice sappiamo che navigano solo a largo. Ecco, la seconda premessa ci dice che le navi fenice però navigano solo a largo, quindi dobbiamo escludere questa cosa, rimane la nave pirata. Quindi noi abbiamo fatto una previsione. Immaginiamo quindi che la nave quando attraccherà sarà piena di pirati, quindi andiamo ad avvisare quelli della città di rifugiarsi sull'acropoli e chiudere tutte le mura perché sono in pericolo. Quindi vedete che la dianoia è praticamente utilissima. Ecco perché i greci, diciamo, scoprendola, perché fu una scoperta, la dialettica, diciamo, gli diedero così tanta importanza. Però, vedete, voi potreste essere portati a credere, con l'esempio, diciamo, delle navi che vi ho appena fatto, di avere scoperto una nuova conoscenza. Cioè di aver, diciamo, in qualche maniera scoperto, in maniera totalmente indipendente da altro, che la nave che stava navigando lungo la costa fosse una nave pirata. In realtà il fatto che la nave dovesse per forza essere privata, pirata, era contenuta nelle due premesse. La conclusione non è altro che un riarrangiare le premesse. La conoscenza era già tutta nelle premesse. Voi avete fatto niente di più che un calcolo. Avete calcolato il risultato di un'operazione, dove, diciamo, gli operandi erano le due premesse. Il che significa che la dialettica è solo una combinazione di conoscenza pregressa. Non è una derivazione di nuova conoscenza. La potenza del ragionamento sta nella capacità di poter combinare tra loro le premesse. E quindi tutto sta nelle premesse. Il risultato, a livello di verità, è attendibile solo se le premesse sono vere. Se una delle due premesse che vi ho fatto non potesse essere ritenuta vera in tutti i casi, per esempio quando io ho detto che le navi fenice navigano sempre a largo, se per caso questo non fosse vero, ebbè, la conclusione che la nave era una nave pirata poteva essere messa in discussione. Magari sbarcavano fenici e non pirati. Quindi è strettamente necessario, affinché la conclusione risulti vera, che le premesse risultino vere. E allora veniamo qui a un altro concetto fondamentale che dobbiamo introdurre. Verità. Che cosa significa verità? Qui vi passo di nuovo la palla. Secondo voi cos'è la verità? Cosa significa vero o falso? È una domanda impegnativa, quindi non vi preoccupate di dire qualunque tipo di risposta va bene. Anzi, rispondete anche di intuito. Una cosa che soddisfa determinate condizioni è vera e una cosa che non le soddisfa è falsa. Determinate condizioni. In che senso dici determinate condizioni? Una cosa, per esempio, in queste premesse, una cosa che è inclusa in queste due premesse è vera, una cosa non è inclusa in queste due premesse è falsa. Però in questo caso tu stai praticamente spostando il problema alle premesse. Perché qualcuno ti può dire perché una certa premessa è vera? Magari con dei fenomeni. Cioè? Facendo degli esperimenti per vedere se è vero o che cosa c'è. Una cosa che rispondisce determinate parametri, determinate cose, allora può essere vera. Se non li rispecchia... Non so come si può rispegare la parola, è vero, però... Quindi adesso state introducendo il concetto di esperimento, qualcuno l'ha proprio nominato. E qui andiamo su qualcosa di molto importante, perché in effetti il concetto di verità, oggi, è strettamente legato al concetto di esperimento. Qualcosa che possiamo sperimentare. Io vi propongo innanzitutto un primo approccio a questo concetto della verità, no? vero o falso significa, in qualche modo, che c'è una corrispondenza o meno con la realtà. Quindi una certa conoscenza che pensiamo di possedere, un'affermazione che facciamo, una proposizione, è vera, se c'è una corrispondenza di questa proposizione con la realtà. Cominciamo ad avvicinarci per gradi al giusto concetto. Vedremo che le cose si possono chiarire sempre di più. Pensate, appunto, all'affermazione, all'affermazione la nave che è appena traccata è una nave pirata. È chiaro che questa affermazione è un'affermazione direttamente verificabile con la realtà. Se dalla nave scendono dei pirati, allora l'affermazione che quella è una nave pirata l'abbiamo verificata con un esperimento. L'esperimento, altro non è che fare, appunto, esperienza di una qualche realtà. Sono scesi i pirati, la nostra affermazione che è una nave pirata è vera, da questo punto di vista. Falsa in caso contrario. Però abbiamo detto che ci sono affermazioni che riguardano una generalità di fatti, non un fatto solo. Per esempio, tutte le navi pirata hanno vela nera. Tutte. Come facciamo a dire che questa affermazione è vera? Possiamo anche qui fare un'esperienza. Arriva una nave, ha la vela nera, la facciamo, la facciamo, diciamo, attraccare e vediamo chi scende dalla nave. Scendono dei pirati. Possiamo dire che tutte le navi che hanno una vela nera... Ci dovrebbero essere a vedere tutte le navi. Quante? Si raccoglono tante, tante, tante. Tante, tante. Ma possiamo esserne mai certi? Quindi già abbiamo messo in discussione proprio la possibilità, no? Di giungere una verità definitiva. La verità definitiva non la possiamo proprio possedere. Allora ecco che il nostro concetto di verità, che abbiamo detto essere un concetto basato sull'esperienza, sull'esperimento, diventa un concetto anche limitato nell'esperienza. Nel senso che noi possiamo avvicinarci a un ideale di verità andando a fare tanti esperimenti e tanto più, diciamo, noi abbiamo esperienza, quindi più esperimenti riusciamo a fare di tipo positivo che ci confermano la nostra affermazione, allora tanto più noi possiamo essere convinti che la nostra affermazione sia vera, ma basta un solo esperimento negativo per convincerci che quella affermazione è sicuramente falsa. Quindi, diciamo che noi dobbiamo intendere il concetto di verità da questo punto di vista più con un collegamento al concetto di falsità che al concetto di verità assoluta. Non esiste una verità assoluta. Sembrerebbe da questo modo di ragionare che invece possiamo affermare in qualche modo una falsità assoluta. In primi stanza la diamo per buona questa cosa. Questo modo di ragionare venne introdotto all'inizio del Novecento da un filosofo famoso, abbastanza famoso, che è Karl Popper, appunto. Questo è il principio del falsificazionismo di Popper. In realtà questo principio è stato messo abbastanza in discussione. Nel Novecento c'è chi lo considera comunque un principio su cui si debba si debba questionare abbastanza però in realtà è il principio su cui effettivamente la scienza moderna si regge di più. I fisici, per esempio, i chimici, chiunque faccia indagine sulla realtà dal punto di vista fisico procede esattamente così. Per provare la verità di una certa affermazione si fanno esperimenti. E fin tanto che gli esperimenti non contraddicono l'affermazione, la teoria, allora noi crediamo in quella teoria. Crediamo nella bontà di quella teoria. Ma non crediamo che quella teoria sia assolutamente vera. Anche per i secoli futuri. Ok? Questo è molto importante. Questo è molto importante. Oggi le teorie, diciamo, più fondate della scienza moderna sono la teoria della relatività di Einstein e la meccanica quantistica. Sono le due teorie fisiche più, diciamo, fondate. In che senso fondate? Nel senso che gli esperimenti hanno dato ragione a queste teorie senza, diciamo, introdurre delle esperienze negative. Senza contraddirle mai. Addirittura ancora noi ci stupiamo che le previsioni di Einstein vengano continuamente confermate. In realtà era Einstein stesso che faceva quell'affermazione che io prima richiamavo, no? Un milione di esperimenti positivi non mi possono dare mai definitivamente ragione ne basta uno negativo per da Pitor. E quindi lo scienziato sa bene che nel futuro la sua teoria per quanto possa essere stata confermata tantissime volte possa essere, diciamo, sconfessata da un unico esperimento negativo. In realtà non è che un esperimento negativo ci faccia poi prendere una teoria che è stata buona per tanto tempo e buttarla nel cestino. Semplicemente è un esperimento negativo il che fa capire che quella teoria non rappresenta una verità assoluta ma quella diciamo verità tra virgolette a questo punto può ancora essere buona per esempio limitatamente a un contesto più ristretto. Per esempio quando Einstein scoprì la relatività sconfessò la teoria di Newton che non andava più bene per certi fenomeni. Cioè certi fenomeni non rispondevano più alla teoria di Newton. Non è che questo fece convincere i fisici a prendere la teoria di Newton e a buttarla nel cestino. Voi ancora a scuola all'università se farete fisica studierete le leggi di Newton per esempio sulla gravità quindi queste leggi continuano ad avere una validità la loro validità rimane confinata però in un ambito limitato cioè non è valida per tutto ma così avviene anche per le teorie più moderne anche la relatività non può essere applicata a tutto a un ambito e anche la meccanica quantistica non può essere applicata a tutto non esiste una teoria che possa essere definita assolutamente vera o anche assolutamente falsa quindi questo era un primo concetto su cui volevo un attimino farvi ragionare ora vorrei farvi un attimo dimenticare le cose che abbiamo detto un po' riazzeriamoci proprio perché questa deve essere l'officina del pensiero critico e allora quello che vi ho raccontato ve l'avrebbe raccontato sicuramente qualunque ingegnere informatico uomo di scienza moderno però come vi dicevo quando parliamo di intelligenza ma anche conoscenza verità che vanno con questo termine vanno insieme a questo termine noi abbiamo avuto nella storia tante proposte questo termine si è evoluto ed è stato inteso in maniera diversa e cerchiamo di capire perché così cerchiamo anche di capire qual è l'ambito di validità della nostra concezione di intelligenza di oggi pensiamo all'uomo arcaico l'uomo arcaico significa un uomo abbastanza antico da precedere Socrate Platone Aristotele pensate al cacciatore raccoglitore dell'età della pietra o all'uomo delle caverne o anche all'uomo che cominciava ad avere a che fare con l'agricoltura vedete un uomo arcaico non applicava gli schemi che abbiamo appena introdotto non applicava la dianoia la dialettica vedendo la nave con la vela nera come si regolava per esempio si poteva ricordare di un sogno fatto la sera prima di alcuni corvi neri che calavano dal cielo lo poteva diciamo interpretare come un cattivo presaggio e andare a dire credere che si trattasse di pirati e magari ci azzeccava pure come nel caso in questione però vedete usando gli schemi usando la dialettica ci si indovina molto più spesso non è che non indovinasse anche l'uomo arcaico per un uomo arcaico ecco vedete su che cosa fondava le sue credenze non sulla dialettica ma su esperienze perché anche quella era un'esperienza anche il sogno dei corvi neri è un'esperienza che non avevano a che fare necessariamente con la realtà fisica e quindi evidentemente qualcuno sta dicendo superstizione è esattamente la parola che usiamo oggi per questo tipo di atteggiamento tuttavia quella che noi oggi chiamiamo superstizione in senso magari anche un po' dispregiativo in realtà all'epoca era proprio il modo in cui si concepiva la realtà e magari per quegli uomini lì andava anche benissimo questo è molto importante non solo diciamo è importante perché per loro andava benissimo ma è importante forse per una ragione più pregnante diciamo una ragione più importante perché la dialettica non è che funzioni sempre anche oggi anche per noi uomini moderni no? ad esempio immaginate di vedere un quadro voi diciamo venite da un ambito artistico no? allora vedete un quadro una statua un palazzo un elemento architettonico e qualcuno vi chiede se è bello vi ponete il problema se sia bello riuscite con qualche ragionamento logico a dedurre in qualche modo la bellezza di questo elemento diciamo che è un'interpretazione proprio perché alla fine ogni persona rispetto magari alle sue esperienze di vita riesce a interpretare un fatto con una visione diversa magari da ciò che puoi interpretare l'altro c'è anche l'istinto ovunque state già introducendo altra carne al fuoco interessante perché appunto tu hai introdotto il discorso della soggettività e quindi cominci però a portare in campo un elemento che non è più uguale per tutti come nel campo della dianoglia della dialettica ecco e quindi il concetto di verità comincia a diventare verità individuale no? e poi appunto non possiamo essere non riusciamo più a ragionare in maniera generale andiamo nel particolare possiamo avere dei fenomeni tra l'altro che sono così complessi così difficili da governare anche senza necessariamente essere soggettivi che applicare la logica è impossibile impossibile proprio per la complessità del fenomeno stesso non potete per esempio applicare la logica ai sentimenti come fareste a applicare la logica a un sentimento allora ecco ci sono degli ambiti in cui una persona umana opera perché poi alla fine la persona umana si dà una risposta quel quadro è bello opera utilizzando altre capacità utilizzando per esempio come qualcuno ha avanzato come proposta l'intuito l'intuito non è governato dalla logica non segue quegli schemi di cui abbiamo appena parlato e l'intuito ha quindi a che fare in qualche modo con l'intelligenza bene i greci chiamavano nus questa capacità ma il vero significato della parola nus più che essere intuito è proprio intelligenza quindi diciamo che per i greci antichi la massima forma almeno all'epoca di platone per esempio la massima forma di conoscenza è quella che si raggiunge per via intuitiva e qui possiamo essere abbastanza sorpresi anzi possiamo essere messi un pochettino in confusione ma io non voglio chiarirvi le idee io diciamo volevo più che altro confondervi in questa in questa lezione chiamiamola così lezione più che altro diciamo incontro nel senso che il pensiero critico nasce cominciando a seminare dubbi non seminando certezze dalle certezze diciamo non è che può nascere granché dal dubbio di solito nasce qualcosa gli antichi pensavano che la conoscenza fosse frutto di pura intuizione quindi l'intelligenza non era nient'altro che pura intuizione cioè non era acquisizione di dati elaborabili cioè voi elaborate dei dati che prendete dalla realtà poi li elaborate appunto come abbiamo visto con la dialettica questo è il nostro modo di concepire l'acquisizione di conoscenza per loro non era così il che significa che un calcolatore per esempio che non fa altro che elaborare dati per un antico greco non poteva essere intelligente vedete tutto questo ci deve anche introdurre all'intelligenza artificiale quindi poi quando parleremo di intelligenza artificiale dovremo fare i conti con questo tipo di discorso per Platone era proprio difficile che un calcolatore se avesse mai immaginato cosa fosse un calcolatore elettronico potesse essere intelligente perché quel concetto di intelligenza che loro portavano avanti aveva a che fare non col capire capire anche per assonanza è un verbo molto vicino al verbo carpire cioè acquisire prendere dalla realtà qualcosa e averlo dentro questo è il nostro concetto di conoscenza oggi qualcuno prima aveva parlato di nozioni io acquisisco date acquisisco eventi sono diventato colto sono diventato intelligente per Platone questa sarebbe stata una sciocchezza io ho solo acquisito nozioni le nozioni non sono intelligenza le nozioni sono appunto dei dati che possono essere eventualmente elaborati invece comprensione aveva un altro significato comprensione comprendo abbraccio cioè io sto dentro la natura sono immerso dentro una realtà e capisco questa realtà come la capisco immediatamente cioè l'idea di Platone è quando io so qualcosa la so perché la so cioè ne intuisco l'intima verità e nessuno mi deve andare a fornire dei dati per capirla la capisco io punto e non è neanche una verità soggettiva ma la presunzione diciamo così che aveva Platone è che questa verità se uno è preparato a comprendere la verità fosse davvero la verità cioè la verità per tutti ok quindi per esempio immaginate no esistevano delle società in cui si dovevano affrontare gli stessi problemi che affrontiamo oggi noi per esempio curare un malato curare un malato in una società antica immaginate una società sciamanica una società in cui quando uno si ammalava si andava dalla guida della tribù lo sciamano l'uomo medicina che era in grado appunto di curare come curava non certamente come fa un medico oggi cioè andando ad acquisire dei dati sulla persona andando a fare le analisi del sangue andando a elaborare le analisi al computer facendo un intervento chirurgico magari con la microchirurgia e con i robot no lo sciamano faceva una cosa molto diversa riuniva gli anziani del villaggio insieme al malato cercava di stabilire un collegamento con la natura collegamento con la natura significa che magari con l'uso con l'aiuto di qualche sostanza allucinogena entrava in uno stato alterato di coscienza e cercava di comunicare con la natura con quegli spiriti che erano responsabili del male per convincere gli spiriti a lasciare il malato è chiaro che noi oggi ridiamo di una cosa di questo genere perché diciamo beh è ridicolo ma questo era quello che loro facevano quindi questo era ciò che loro attribuivano alle capacità umane la possibilità di comunicare con la natura comunicare con la natura come si fa con la propria mano e col proprio corpo e quindi non vedevano la natura come qualcosa di esterno ma come qualcosa con cui si può entrare intimamente in contatto è chiaro che noi non abbiamo più questa visione delle cose per noi la natura è esterna io qui non esprimo diciamo nessun tipo di preferenza per un sistema o per l'altro vedete voi diciamo di fare le vostre considerazioni ma comunque le cose stanno così noi oggi per poter indagare la natura la dobbiamo considerare esterna è qualcosa esterna a noi quindi dobbiamo raccogliere dei dati ok e quindi diciamo la conoscenza è una conoscenza dialettica non una conoscenza intuitiva la malattia per gli antichi per esempio era la rottura di un equilibrio quindi uno stava male perché aveva rotto l'equilibrio naturale non perché c'era una causa da cui discendeva in maniera logica per esempio la malattia nel senso un virus o un batterio che aveva provocato il malanno stesso ma perché appunto l'equilibrio naturale era stato rotto per questo diciamo la conoscenza era una conoscenza naturale veniva denominata conoscenza naturale per esempio nell'antica Cina del VI secolo a.C. al tempo del saggio Lao Tse la visione della conoscenza nel mondo era denominata Tao il Tao era altro non era che una visione di una natura in equilibrio per cui uno poteva seguire la strada dell'equilibrio della natura cioè procedere in accordo con la natura e allora stava bene oppure andare per altre strade e se andava per altre strade stava male quindi diciamo che noi nelle culture antiche abbiamo delle visioni veramente diciamo molto diverse dalla visione moderna di conoscenza poi vennero i pensatori greci intorno al VI secolo a.C. quello che denominiamo periodo assiale dell'umanità c'è stato un filosofo Jaspers che lo ha denominato così perché nel VI secolo abbiamo avuto un'esplosione di pensatori in varie parti del mondo Confucio Lao Tse Zaratustra in Grecia abbiamo avuto tanti pensatori che hanno diciamo sviluppato una visione diversa della natura molto collegata alla dialettica che vi ho introdotto prima faccio alcuni nomi Talete Anassimandro Anassimene li avrete sicuramente sentiti ma non solo questi gli studiosi della Fusis gli studiosi della natura appunto qui intesa come natura fisica non come natura come la intendeva lo sciamano che la intendeva in un senso profondamente spirituale ma come natura appunto vista come qualcosa di esterno dal soggetto che la analizza per cui il soggetto può andare ad analizzare qualcosa di esterno e si posero una domanda fondamentale la domanda fondamentale è qual è la causa fisica dei fenomeni fisici ecco vedete questo fu un principio di rivoluzione nel modo di ragionare perché la domanda non era più se è in equilibrio o no con la natura la domanda è qual è la causa fisica quindi l'idea che ci fosse una causa fisica al fenomeno fisico cerchiamo la causa fisica un filosofo da questo punto di vista importantissimo fu Democrito Democrito ipotizzò che la materia e quindi come vedete si interessava della della natura fisica fosse composta da particelle indivisibili particelle elementari indivisibili quindi atomi non divisibili quindi ipotizzò che tutto ciò che succede nella realtà tutti gli eventi a cui assistiamo fossero una conseguenza di come gli atomi si muovono di come gli atomi interagiscono di come gli atomi per esempio si scontrano quindi se io ho un bicchiere in mano e lo lascio andare quello cade e va in pezzi a terra perché i suoi atomi sono attirati dalla terra e perché gli atomi si scontrano con gli atomi del pavimento quindi c'è una causa fisica per l'evento che abbiamo appena considerato oggi noi abbiamo le stesse convinzioni di Democrito sono passati diciamo 2300 anni da allora ma le convinzioni sono rimaste essenzialmente le stesse noi pensiamo che la materia sia formata da particelle elementari un certo numero sono 12 però le più importanti particelle elementari sono quelle che compongono il nucleo degli atomi i quark che compongono diciamo sono tre i quark abbiamo tre mattoncini fondamentali della materia combinandosi in maniera diversa formano i protoni e i neutroni che stanno nel nucleo dell'atomo quindi queste sono le tre particelle fondamentali poi c'è l'elettrone un'altra particella indivisibile che come sapete diciamo ruota diciamo così attorno al nucleo dell'atomo visto come un piccolo sistema solare queste quattro particelle i tre quark e l'elettrone sono le particelle diciamo indivisibili fondamentali sono i nostri atomi quello che chiamiamo atomo in realtà non è più l'atomo indivisibile di denocrito lo abbiamo spezzato in realtà ci sono tante altre particelle vi dicevo dodici in tutto indivisibili addirittura persino le forze della natura noi pensiamo che siano veicolate da particelle per esempio nel nucleo dell'atomo noi abbiamo delle particelle che hanno la stessa carica eppure non si respingono voi sapete che particelle che hanno la stessa carica si respingono con carica invece opposta si attraggono però nell'atomo voi trovate per esempio i protoni che stanno insieme pur avendo la stessa carica perché non si respingono perché esiste una forza che è la forza nucleare forte si chiama così che lega questi due queste due particelle la forza nucleare forte è veicolata da una particella elementare che si chiama gluone quindi pure le forze sono diciamo veicolate da particelle quindi per noi la materia non è altro che una combinazione di particelle elementari al CERN a Ginevra i fisici moderni si divertono a fare scontrare particelle e a produrre questi mattoncini elementari per esempio il bosone di Higgs di cui avrete sentito parlare tanto in questi ultimi anni è una di queste particelle elementari è la particella che è causa della massa delle altre particelle quindi noi abbiamo un fenomeno fisico la massa delle particelle tutte le particelle hanno una massa tranne diciamo poche poche eccezioni per esempio il protone ha una massa ecco la causa vedete di questa massa è un'altra particella quindi vedete come il nostro modo di vedere la natura oggi è strettamente vincolato alla dialettica causa effetto particella con massa perché esiste un'altra particella che gli dà massa il bosone di Higgs è proprio una particella che dà massa vedete questo è il modo con cui noi inferiamo conoscenza questa è la scienza la scienza è ciò con cui voi dovete fare i conti oggi quindi se vi iscriverete a qualche se vi iscriverete a qualche facoltà scientifica sentirete parlare di scienza di metodo scientifico di ricercatori che indagano scientificamente bene la scienza ha a che fare con questo modo di procedere quindi riassumiamo un po' quello che abbiamo detto con il concetto di metodo scientifico se avrete a che fare con la scienza nel vostro futuro potrete diciamo riassumere un po' le cose che abbiamo visto utilizzarle sintetizzandole con il concetto di metodo scientifico cos'è il metodo scientifico voi siete sicuramente abituati diciamo a recuperare le vostre informazioni da internet magari andate spesso su wikipedia allora potete andare a vedere la pagina di wikipedia in cui parla del metodo scientifico vedrete che vi si dice che il metodo scientifico è la modalità tipica in cui la scienza procede per raggiungere diciamo una conoscenza della realtà oggettiva affidabile verificabile e condivisibile potete andare su wikipedia e vedere che questa è la definizione questa definizione è scorretta quindi diciamo il mio consiglio è appunto quello di non affidarvi per le vostre ricerche semplicemente a internet o a wikipedia ma di usare il pensiero critico appunto di confrontare fonti di andare a fare ricerche quando cercate appunto una conoscenza vedete come è facile scambiare un'affermazione qualunque con conoscenza questa affermazione che fa wikipedia non è vera tutto quello che abbiamo detto nella prima parte di questa conversazione diciamo ve lo conferma perché come può essere la conoscenza oggettiva oggettivo significa che riguarda l'oggetto in studio quindi la conoscenza dovrebbe poter riguardare solo l'oggetto in studio senza dipendere dal soggetto la scienza moderna sa benissimo che quando noi effettuiamo una misura misuriamo qualcosa la misurazione stessa che facciamo influenza il risultato la meccanica quantistica è basata su un principio che riporta proprio questo tipo di considerazione che ho appena fatto se noi andiamo a fare una misura noi influenziamo col nostro atto di misurare il risultato di quella misura quindi non possiamo mai avere un risultato oggettivo la conoscenza è sempre soggettiva tantomeno esiste qualcosa di verificabile ma l'abbiamo appena finito di dire posso fare un milione di verifiche un miliardo di verifiche questo non vuol dire che io ho veramente provato che una certa affermazione è vera l'unica cosa in cui wikipedia ci azzecca è che appunto quando parliamo di conoscenza intendiamo qualcosa che possa essere condivisibile no la voglio condividere la scienza non trova nessuna verità assoluta nessuna falsità assoluta ma semplicemente cosa fa il metodo scientifico cerca delle teorie in un certo grado aderenti ai fatti quindi teorie buone teorie che vanno abbastanza bene quanto meglio possibile si diciamo accordano con la realtà sperimentabile questa è la conoscenza oggi la scienza oggi scienza deriva appunto dalla parola latina scienzia che significa appunto conoscenza è la conoscenza dei latini che noi ci siamo portati dietro ma scienza non significa conoscenza tu cur in generale non è l'unico tipo di conoscenza gli esempi che vi ho fatto prima relativi all'uomo arcaico vi fanno capire che ci sono altri modi di conoscere la parola greca agnosis che noi traduciamo con conoscenza indicava un senso più ampio del conoscere quindi scienza è relativa soltanto a un certo modo di conoscere il modo della dialettica del razionalismo la conoscenza per platone era qualcosa di diverso vi cito platone come diciamo un filosofo abbastanza esemplificativo emblematico del mondo greco del mondo antico all'inizio del settimo libro della repubblica platone illustra un bellissimo mito un mito molto elaborato che ha a che fare con la conoscenza in questo mito lui descrive una caverna una caverna sotterranea nel fondo di questa caverna ci sono dei prigionieri degli schiavi imprigionati là da quando diciamo hanno visto la luce sono sempre stati imprigionati sono immobilizzati a un muro hanno le spalle hanno un muro alle spalle e quindi sono costretti a guardare la parete davanti a loro della caverna alle loro spalle dietro diciamo al muro corre una stradina una stradina sopraelevata in questa stradina c'è una processione di persone che portano sulla testa delle statuette statuette a forma di uomini a forma di animali quindi oggetti della realtà dalla parte del muro ci sta anche un grande fuoco acceso e questo fuoco proietta le immagini delle statuette sul muro della caverna che i prigionieri hanno davanti quindi i prigionieri vedono queste grandi ombre che si muovono e hanno fattezze umane o di animali e loro pensano quindi che quella sia la realtà anche perché sono sempre stati imprigionati fin dalla nascita quindi non hanno mai visto nessun altro tipo di realtà quindi per loro la realtà è quella ovviamente diciamo si tratta di un'illusione direte voi perché voi conoscete un altro tipo di realtà la possono conoscere anche i prigionieri in realtà Platone con questo mito vuole illustrare la condizione dell'uomo nel momento in cui è legato alla materialità quindi a conoscere semplicemente la realtà attraverso la percezione e basta i sensi quello rivelano i prigionieri le ombre allora ecco che Platone vuole farci comprendere che la realtà può essere la realtà dei sensi può essere ingannevole la percezione può essere ingannevole e quindi che possiamo essere tenuti prigionieri all'interno di un'illusione qual è la realtà vera questa è una riflessione interessante immaginiamo che i prigionieri si possano liberare che un prigioniero possa liberarsi e possa vedere cosa ci sta quindi dietro il muro possa vedere la processione di questa gente con le statue e possa vedere le statue e possa vedere anche il fuoco e allora si rende conto di quello che è successo no? si rende conto che quello che ha visto finora erano soltanto ombre e quindi diciamo le statue cominciano ad avere un valore di verità superiore no? perché si comincia a capire qual è la causa di quell'effetto che prima vedevano le ombre sono solo l'effetto di una causa che è rintracciabile nelle statue quindi diciamo vediamo già due livelli di conoscenza diversi una conoscenza di più basso livello una conoscenza che Platone chiama immaginazione e il casia cioè appunto un livello di conoscenza percettiva sensoriale e basta e un livello più elevato nel senso che cominciamo a mettere in collegamento un effetto con una causa la pistis un secondo livello di conoscenza la pistis sta per credenza è come il bambino che scopre che il regalo a Natale non l'ha portato Babbo Natale ma l'ha portato la mamma allora ecco che diciamo nel momento in cui lo scopre c'è una verità di più alto livello ma tuttavia quelle statuette che lo schiavo liberato ha visto non sono la realtà ultima perché questo schiavo può proseguire il suo percorso verso la libertà può cercare di uscire dalla caverna esce alla luce del sole inizialmente abbagliato da questa luce del sole lo acceca poi quando si comincia ad abituare alla luce magari riesce a guardare nello stagno immaginate che ci sia uno stagno in questo stagno sono riflesse le figure della natura animali uomini quindi vede quelle immagini certamente molto più vere molto più naturali delle statue e allora comprende ecco altro livello di comprensione di conoscenza vedete che la conoscenza può essere esplicata a vari livelli comprende che le statue non sono altro che la copia di quelle immagini più vere che lui vede riflesse questa questo terzo livello di conoscenza è proprio la di Anoia cioè quel livello in cui cominciamo a astrarci nella nostra comprensione della realtà cominciamo a vedere cose sempre più vere Platone con questo livello quello delle immagini riflesse nello stagno vuole farci pensare agli oggetti della matematica vuole farci pensare proprio alla dialettica alla logica eppure vedete parla sempre di immagini nello stagno immagini quindi ancora non siamo al grado più alto di conoscenza perché comunque il grado più alto lo si riesce ad acquisire quando lo schiavo ormai diciamo si è abituato alla luce in questo mondo di luce ci vede vedete quanto è bello anche il mito no? anche molto poetico ci fa capire proprio veramente cosa vuol dire Platone alza la testa e vede vede le persone reali vede gli animali reali ancora più veri delle immagini questa è diciamo la rappresentazione di quello che Platone chiama le idee cioè appunto la conoscenza pura la conoscenza pura che non si acquisisce per ragionamento ma si acquisisce semplicemente per comprensione diretta in realtà una causa c'è per questa acquisizione ultima la causa è una delle cose che in natura lo schiavo può vedere c'è un oggetto c'è un elemento della realtà naturale che splende più di tutti gli altri elementi è il sole allora il sole è quella idea che dà corpo a tutte le altre idee è l'idea che Platone chiama l'idea del bene e allora vedete che qui abbiamo un concetto di conoscenza che non ha più niente a che fare con il nostro modo di vedere la conoscenza perché è chiaro che il bene non ha niente a che fare con la conoscenza scientifica come la intendiamo oggi il bene vi richiama altre diciamo qualità umane vi richiama l'etica vi richiama diciamo il concetto dei concetti morali o la spiritualità nella scienza questi concetti nella scienza moderna non sono non sono compresi quindi l'idea del bene per Platone è fondamentale per definire un tipo di conoscenza che oggi non è che è stata dimenticata ma che è oggetto di altre discipline e non delle discipline strettamente scientifiche ecco che noi abbiamo introdotto oggi una sostanziale differenza tra discipline scientifiche e cosiddette discipline umanistiche per cui con la scienza si acquisisce un certo tipo di conoscenza e con le discipline umanistiche se ne acquisisce un'altra ricordatevi sempre che la conoscenza è alla fine unitaria cioè è l'uomo che attraverso la sua intelligenza acquisisce conoscenza allora ecco che la scienza altro non è che il modo di acquisire conoscenza dialettica mentre invece l'agnosi intesa come conoscenza onnicomprensiva è generalmente il modo in cui un essere umano ha esperienza del mondo qualunque tipo di esperienza sia quindi quando voi avete esperienza di un quadro state guardando un quadro anche lì acquisite conoscenza quando voi ascoltate la sinfonia numero 40 di Mozart state acquisendo conoscenza ma non è conoscenza dialettica non potrete spiegare a nessuno la sinfonia numero 40 di Mozart al limite potrete condividere diciamo questa vostra esperienza perché quel tipo di conoscenza è una conoscenza noetica non dia noetica quindi c'è un punto di demarcazione Platone ci fa comprendere con quel mito che abbiamo appena passato in rassegno la questione iniziale cos'è l'intelligenza e come si colleghi all'altra questione cos'è la conoscenza intelligenza e capacità di acquisire conoscenza vedete è facilissimo ma la conoscenza non è semplicemente dianoetica raziocinio è anche intuizione quindi una sapienza che si rivela senza una necessità di elaborazione intellettuale allora vedete oggi esiste nella nostra società contemporanea la possibilità di insegnare a una macchina a calcolare risposte a problemi logici noi possiamo insegnare a un calcolatore lo vedremo nella prossima diciamo nella prossima lezione che farò possiamo insegnare la dialettica a un calcolatore e un calcolatore diciamo è bravissimo a ragionare in maniera dialettica addirittura più veloce ed efficiente di noi esseri umani la questione adesso la questione su cui vorrei farvi riflettere è possibile insegnare ad una macchina ad esempio a riconoscere la bellezza è possibile cioè quindi affrontare un problema conoscitivo più ampio che non sia dialettico con una macchina oggi è la sfida dell'intelligenza artificiale vi anticipo ma lo vedremo nella lezione successiva che oggi l'intelligenza artificiale si pone anche questo tipo di problema quindi diciamo siamo messi in qualche modo in pericolo come unici esseri che possano diciamo affrontare questo tipo di problematiche avremo dei competitor in futuro se l'intelligenza artificiale veramente riuscisse a concepire questo tipo a realizzare questo tipo di meccanismi cos'è la bellezza per ragionare su questo nuovo tipo di conoscenza voi l'altra volta avete fatto una lezione sull'estetica quindi in qualche modo ci riagganciamo mi pare che una domanda che vi è stata fatta è cosa sia l'estetica ha molto a che fare con il concetto di bellezza Dostoevsky in un celebre romanzo nell'idiota si rivolgeva diciamo faceva dire a un suo personaggio la famosa frase la bellezza salverà il mondo quindi parlava evidentemente di qualche cosa importantissimo addirittura al punto tale che dovrebbe salvare il mondo bello è un iperonimo non è una parolaccia iperonimo sta a significare diciamo che è un significato più ampio che ne abbraccia tanti più ristretti noi possiamo dire che una cosa è attraente per dire per significare un certo tipo di bellezza oppure armoniosa per esempio una bella piazza oppure possiamo dire una bella notizia per dire che una cosa è lieta oppure ancora una bella risposta che mi date a una domanda che vi faccio per dire che è efficace vedete bello può voler dire tante cose però qual è il minimo comun denominatore di tutti questi significati soprattutto nel nostro tempo al tempo moderno ciò che è bello secondo noi deve essere sempre qualcosa che ci piace quindi noi affianchiamo diciamo al concetto di bellezza qualcosa di soggettivo qualcosa che ci piace questa è la moderna definizione di bellezza però appunto essendo soggettivo voi capite che ci allontaniamo molto da quei tipi di conoscenza di cui abbiamo parlato prima che avevano la pretesa in qualche modo secondo wikipedia addirittura di diventare oggettivi l'oggettività non esiste lo dicevamo prima ma qui addirittura proprio parliamo di cose che sono soggettive per definizione no? il concetto di bellezza ad ognuno dovrebbe risultare bello ciò che gli piace ma immaginate se prendete un tifoso del calcio e lo mettete davanti alla televisione quando sta per iniziare la partita dirà che quello spettacolo è bellissimo poi magari arriva la moglie che odia il calcio e odia il fatto che distragga il marito che dirà è una cosa orrenda quindi cos'è la bellezza in senso definitivo? esiste la possibilità di definire la bellezza in senso definitivo in qualche modo vedete è bello ragioniamo sempre con le parole io vi invito a scoprire il senso delle parole le parole della lingua italiana è una lingua bellissima anche l'inglese è molto bello è una lingua che dovete sicuramente conoscere la lingua diciamo la lingua comune oggi una lingua franca ma l'italiano è una lingua meravigliosa per i suoi contenuti ricchissimi e noi dobbiamo ragionare anche sulla derivazione delle parole che ci dice tanto vedete bello deriva dal latino bellus che è un diminutivo di bonus bonus significa qualcosa di più banalmente buono è un diminutivo di bonus quindi è qualcosa di carino questo vuol dire essenzialmente per i latini bello cioè bello veniva riferito ai bambini per esempio oppure diciamo a degli oggetti che destavano tenerezza oppure commozione un latino non avrebbe mai detto per esempio a un guerriero che è bello lo avrebbe offeso perché era una cosa sarebbe stato inteso in senso dispregiativo una cosa bella per i latini veniva resa con altre parole per esempio con pulcher ecco pulcher vuol dire qualcosa di ammirabile per i latini o formosus un uomo poteva essere formosus un guerriero se gli dicevate che era bellus si offendeva invece i greci avevano una parola più appropriata rispetto a quello che è un concetto elevato di bello la bellezza la identificavano attraverso una parola che è calon calon significa bello in senso di ammirevole qualcosa che ammiliamo però vedete questo concetto di calon è un concetto su cui i filosofi greci hanno riflettuto molto al punto tale che un filosofo per esempio come Platone ci porta a riflettere sul fatto che la radice di questa parola calon è la stessa radice del verbo kaleo che significa chiamare la bellezza chiama è una voce che ci chiama dal di dentro quindi è qualcosa di interiore qualcosa che noi dobbiamo sentire e nel mondo greco diciamo la bellezza è espressa sempre attraverso questo tipo di concetti per esempio per Staffo che è una poetessa è bello tutto ciò che non è corrotto tutto ciò che integra per Erodoto è bello ambira una bella morte oppure per Eraclito è bellissima l'armonia degli opposti per Omero è bella la forza del corpo è bella l'audacia del guerriero in battaglia è bella l'audacia di Achille quindi vedete che gli antichi mantengono addirittura separata la sfera del bello dalla sfera dell'arte questo magari vi interessa in maniera particolare perché appunto voi con l'arte avete molto a che fare tutti i giorni e allora vedete per il mondo greco la bellezza non si poteva trovare nell'arte voi siete abituati ad associare il concetto di bellezza col concetto di arte ma non era così per il mondo greco la bellezza si riscontrava nella natura e l'arte era imitazione della natura Platone si dice sempre che non avesse una grande opinione dell'arte non è vero questo Platone semplicemente in maniera coerente con la sua filosofia diceva l'arte è imitazione della natura la bellezza la trovate nella natura quindi se io vedo un quadro dice Platone io posso trovare la bellezza perché il soggetto del quadro è di essere belli perché ciò che rappresenta il quadro è di essere bello non il quadro in se stesso noi oggi abbiamo un altro modo di vedere la bellezza proprio perché abbiamo introdotto il soggettivismo cioè noi oggi pensiamo che la bellezza derivi dall'applicazione di certi canoni canoni che sono canoni soggettivi per esempio un museo ospita certe opere date altre no sotto quali diciamo sotto quali indicazioni sotto quali diciamo sotto quali considerazioni si fanno queste scelte di bontà evidentemente sotto scelte di tipo soggettivo al punto tale che oggi si dice bisogna educare al gusto perché il gusto appunto è la capacità dovrebbe essere la capacità personale di riconoscere il bello e allora noi dovremmo educare il gusto ma se il gusto è soggettivo non si capisce molto dove possiamo andare a parare con questo tipo di ragionamento per Platone non c'erano questo tipo di problemi la natura è bella la natura è bella nella misura che esprime per cui la bellezza è equilibrio equilibrio delle forme la bellezza si rintraccia quindi in criteri che sono assolutamente oggettivi la bellezza si può riscontrare persino in fenomeni sociali per Platone è normale dire una bella legislazione perché è equilibrata e perché consente a una società di evolversi in maniera efficace il concetto di bello per Platone è legato al concetto di buono infatti i due concetti sono nella visione greca di bellezza assolutamente collegati kalos kai agatos senza la bontà agatos non ci può essere vera bellezza quindi questo concetto è un concetto che valeva sicuramente all'epoca per bellezza e non aveva molto a che vedere con il mondo dei sensi allora quando è che entra in gioco il mondo dei sensi fino al cinquecento vedete fino al rinascimento questo concetto di bellezza come qualcosa che viene da una misura da un equilibrio qualcosa quindi di oggettivo era perfettamente noto quindi per esempio durante il rinascimento pittori o scultori famosi come Raffaello Michelangelo avevano perfettamente chiaro questo principio dal barocco in poi si cominciò a introdurre un criterio più soggettivo della percezione del bello per cui non è importante che quello che abbiamo davanti sia armonioso o debba rispondere a qualche concetto di bontà ma se il nostro gusto ci dice che quella cosa è bella allora noi possiamo dire che siccome i nostri sensi ce lo comunicano allora quella cosa è bella ecco perché entra in gioco quella che viene chiamata aistesis l'estetica aistesis ha a che fare con i sensi dal settecento in poi da Baumgarden soprattutto si comincia a mettere molta enfasi su questo concetto di bellezza soggettiva per Platone sarebbe stato assurdo pensare che la bellezza si possa misurare si possa cogliere con un sensore oggi noi ci poniamo il problema se si possa in qualche maniera cogliere la bellezza con dei sensori è un problema che l'intelligenza artificiale per esempio devi affrontare si può insegnare a un calcolatore a concepire il concetto di bello si può insegnare a un calcolatore a concepire il concetto di buono questo equivale a porsi il problema si può insegnare a un calcolatore ad essere cosciente ad avere un'immagine di sé come fa un essere umano questi problemi diciamo li affronteremo come vi dicevo la prossima volta nella prossima lezione alla fine il punto fondamentale vedete per parlare di intelligenza artificiale occorre arrivare a questo punto fondamentale di demarcazione c'è la possibilità di definire un bello artificiale perché vedete solo una macchina che possa cogliere il bello oppure in maniera parallela il buono fare diciamo farsi delle idee sulla verità delle cose potrebbe davvero proporsi come intelligenza artificiale fino a quando parliamo di risolvere problemi dialettici del tipo quello della vela nera della barca noi non ci stiamo spingendo realmente nell'ambito dell'intelligenza artificiale ci stiamo spingendo stiamo sviluppando semplicemente la teoria dei calcolatori cioè macchine che sono in grado di fare calcoli così come fanno somme fanno prodotti possono anche risolvere problemi logici di tipo dialettico ma non ha niente a che vedere questo modo di procedere con l'intelligenza noi quando possiamo parlare di intelligenza quando possiamo parlare veramente di un ente di un ente noi pensiamo subito a noi stessi di un essere umano che sia in grado di affrontare problematiche come la bellezza oppure lo vedremo la prossima volta anche come la coscienza quindi intelligenza e capacità di comprendere il bello ovvero il buono così come capacità di ragionare logicamente e anche capacità di associare forme tra di loro per esempio accostare due colori scegliere la cravatta giusta per una giacca per esempio è una capacità che esprime intelligenza intelligenza è capacità di comunicare intelligenza è capacità di amare è qualcosa che solo l'uomo finora ha saputo esprimere è una forma di creatività quindi l'intelligenza è un'arte è proprio anzi la più umana delle arti ecco perché se ci chiediamo con l'intelligenza artificiale se l'intelligenza possa essere espressa da una macchina noi ci stiamo facendo una domanda molto complicata è possibile che una macchina diventi un artista questa è la domanda che ci stiamo facendo perché una macchina per diventare davvero intelligente dovrebbe essere in grado di esprimere arte e diciamo la conclusione del nostro discorso sta tutta in questa domanda che io vi lascio per vostra riflessione vi lascio concludo questa lezione lasciandovi con questa domanda e con le riflessioni che potete fare su questa domanda grazie